Perché un canale YouTube? Vorrei farvi conoscere quelle che sono le mie attività, sia quelle che organizzo privatamente, sia quelle che mi vengono commissionate da enti pubblici, teatri, librerie, biblioteche, centri culturali, istituti scolastici, ma anche per creare un'occasione per potervi parlare periodicamente del teatro e della lettura espressiva e farvi così viaggiare nell'affascinante quanto vastissimo mondo della parola interpretata.